Ciao ragazzi, benvenuti a questa lezione, a questa video-lezione su must e have to. Questa è una video-lezione dove noi vediamo brevemente il verbo must per indicare un dovere e anche il verbo have to per indicare un dovere. Sono diversi, sono per certi versi simili, sono per certi versi molto molto diversi uno dall'altro. Vediamo di capire perché. Iniziamo brevemente a spiegarvi perché siamo qui, tre secondi, why are we here? Siamo qui per combattere insieme e quindi let's fight together, in questo periodo un po' particolare per il nostro paese, siamo alla week 7, la settimana numero 7 di video-lezioni. Queste video-lezioni seguono il vostro programma ministeriale, il vostro programma didattico delle classi prime, seconde e terze medie, ma possono essere utilizzate per tutti per imparare l'inglese e per muoversi più agevolmente con la grammatica inglese. Sono lezioni che io faccio in italiano e non in lingua inglese, appunto, per venire incontro agli studenti più giovani. Ma la grammatica che affrontiamo qua è molto seria e direi ben fatta. Quindi, ragazzi, continuate a seguirci per apprendere sempre più regole e per imparare bene l'inglese. Oggi vediamo, quindi, must have to. Facciamo un warm-up, un piccolo riscaldamento. Ricordate il verbo modale can? L'ho fatto in una lezione pochissimo fa, in una lezione per le classi prime. Il verbo potere, sapere fare qualcosa, è un verbo modale. Quindi can significa saper fare o essere capace di fare qualcosa. Ha un'unica forma base per tutte le persone ed è seguito dalla forma base del verbo principale, soggetto più can più verbo, soggetto più can più verbo, soggetto più can più verbo. Ok, ho finito. Esempio, I can play soccer very well. Io sono capace, so giocare a calcio molto bene. E qua ho usato la lattina del can perché per un gioco di parole strano can significa anche lattina. Quindi abbiamo creato questo esempio stupidissimo che ho fatto nella lezione precedente delle prime che vi prego di andare a guardare dopo. E così potete farvi un'idea di cosa significa can e a, diciamo, mettere vicino un simbolo visivo che possa ricordarvi come si utilizza. Allora, questo è il verbo modale can. Warm up l'abbiamo fatto e andiamo a vedere ora must. Must. Must è un verbo modale che esprime un comando e un obbligo di fare qualcosa. Ha un'unica forma base per tutte le persone ed è seguito dalla forma base del verbo principale. Quindi soggetto più must più verbo. Uguale, identico nell'utilizzo, identico nell'utilizzo dal punto di vista della posizione grammaticale rispetto all'altro modale che avete appena visto, no? Che di solito si fa in prima, al primo anno, can, ok? Quindi è molto semplice da utilizzare. Vediamo l'esempio. You must stop when the traffic lights are red. Tu devi fermarti quando le luci del traffico, quindi quando i semafori, sono rossi, ok? Ho fatto l'esempio del semaforo. You must. Ma attenzione, perché ho utilizzato must in questo caso? Perché è un obbligo. Perché se tu non ti fermi, se disgraziatamente non ti fermi al rosso, ti fai male. Ti possono prendere sotto. Quindi must è un verbo che mi esprime un comando, un'imposizione e un obbligo a fare qualcosa. Questa è una lezione però dove avete visto che c'è anche un altro verbo, to have to, ed è un altro modo di dovere. Ed è lì, in questa lezione, che noi faremo una distinzione abbastanza netta ma precisa tra must e have to, i due verbi inglesi per dove si indica la necessità, l'obbligo di fare qualcosa. Ora vediamo però la negativa di must, che è mustn't. Significa must, not, ok? Il not viene sempre contratto. Mustn't è la forma negativa del verbo modale. Must è un obbligo e un'imposizione a non fare una certa cosa. E si traduce come non devi. Soggetto più mustn't più verbo. E il mio esempio è you mustn't copy during the exam. Tu non devi copiare durante l'esame. Non devi proprio. Cosa succede se copi? Che ti viene annullato il compito, che l'insegnante diventa una furia. a prescindere da quello che poi può succedere, è una cosa che assolutamente non va fatta. È un obbligo non copiare. Tu non devi assolutamente farlo. Ok? Se poi lo fate, cercate di non farvi scoprire. Va bene? Cioè, chiudiamo, non chiudiamo un occhio su queste cose, però fate i furbi. Ok? Non ho detto niente. Andiamo avanti. Per quanto riguarda have to e don't have to, questo è un altro modo, e qua dovete iniziare a stare molto 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 attenti, questo è un modo per esprimere un obbligo a fare qualcosa. Esprime a sua volta un obbligo di fare qualcosa e si traduce come devo, come devo, ma è sentito da chi parla come un dovere imposto da circostanze esterne. Cosa vuol dire un dovere imposto da circostanze esterne? Facciamo, vediamolo brevemente e poi cerchiamo di capirlo e mettiamo in relazione must e have to, perché lì c'è la difficoltà e la necessità di saperlo utilizzare uno piuttosto che un altro. Allora, vediamo brevemente come si fa I, you, we, they più have to più verbo e alla terza persona, visto che have to alla fine c'è il verbo avere, la terza persona la decliniamo trasformandolo in has to, quindi he, she, it, has to più verbo, d'accordo? Quindi essenzialmente si declina in questo modo. Facciamo il nostro esempio, I have to go to the dentist this afternoon, devo andare dal dentista questo pomeriggio, I have to go, è una... se tu devi andare dal dentista, perché devi andare? Perché ti fa male un dente, ma perché hai preso anche un appuntamento. È una cosa che tu hai fatto, tu lo senti come un dovere, la circostanza esterna che hai preso un appuntamento, quindi ci devi andare, d'accordo? E questo è have to, l'altro modo di intendere dovere. Mettiamoli vicini adesso, mettiamoli vicini per capire la differenza tra have to e must. Qua rimbocchiamoci le mani perché la spiegazione è veramente necessaria e di solito si fa tanta tanta confusione tra have to e must. Allora, have to è dovere utilizzato per indicare un compito assegnato da me o da altri, un'azione necessaria per evitare conseguenze. Vi ricordate il caso del dentista? Io per evitare la conseguenza di perdere l'appuntamento mi sono imposto di andare, ok? Non mi hanno puntato una pistola alla tempia dicendo devi assolutamente andare, oppure lo Stato ti obbliga ad andare. E must invece ha un dovere che non può essere messo in discussione. Superiore alla mia capacità di scegliere, ho spesso imposto anche da me un dovere necessario, qualcosa che tu devi assolutamente fare. Vi ho fatto degli esempi per capire dove, come farli, come inserirli. Ad esempio, I have to go to the dentist this afternoon. Devo andare dal dentista oggi pomeriggio, ad esempio che vi ho fatto prima. Mi tocca, mi tocca andare. Ormai ho prenotato, questa è la logica. E quindi metto I have to. You have to study. Devi studiare. Non hai deciso tu. E se non lo fai, andrà male il compito. Capite? Quindi, tu devi studiare. Non ho detto you must study, perché io non ti posso imporre con la forza, con un obbligo della legge superiore a tutto che tu devi studiare. Dico you have to study. You have to study if you want to pass the exam. Se vuoi passare l'esame, you have to study. Quindi, ho utilizzato il verbo have to per dire qualcosa che ho da fare, che devo fare in un modo, secondo me, un pochino meno forte del verbo must, che invece è una coercizione, un obbligo, un'imposizione fortissima. che può essere data da chi? Che può essere data da persone esterne, come un giudice, la legge, un poliziotto che ti dice che devi andare in prigione, piuttosto che può essere data anche da me stesso. Perché qual è il più potente giudice? Qual è la persona che può imporsi una cosa? Più di tutti, se non il sottoscritto. Se non... Chi sono io per me stesso? Sono anche il mio arbitro, il mio giudice. Mi do delle regole. Quindi must si può usare anche per me stesso. Anche per dire... Per imporre a me stesso una cosa. Per far capire che non ho altra scelta, che devo assolutamente fare una cosa. Ma vediamo gli altri esempi con must. Passengers must buy the tickets. I passeggeri devono comprare i biglietti. È assolutamente obbligatorio comprare i biglietti. Perché se non prendete il biglietto per salire su un treno, su una metropolitana o dove dovete andare, cosa succede? Succede che vi arriva una multa. Quello è un obbligo. È un obbligo per legge di acquistare un biglietto. E capite quindi che il verbo must, più che have to, che non andrebbe bene, è molto importante. Perché siete proprio obbligati. È qualcosa che assolutamente dovete fare se volete compiere un'azione. Idem, you must go to prison. Ve lo dice il giudice. Ecco, questo è un esempio un po' sfortunato. Ipotizziamo che siete un criminale, ok? Cosa che voi non siete, non sarete mai grazie. Ma ipotizziamo che siete un criminale. Il giudice ti dice you must go to prison. Non ti dice you have to go to prison. Non è che ti sta facendo un... Non ti sta dando un compito o ti sta dando un'azione necessaria per evitare conseguenze. Se tu non hai altra scelta, non hai nessun'altra opzione, se non quella di andare in prigione. Quindi must è il verbo modale più forte che esista. Have to è ugualmente forte, ma viene un pochino dopo, ok? Quindi you must go to prison, devi andare in prigione. L'ha deciso un giudice e tu non hai scelto. D'accordo? Quindi questi sono i due verbi modali. Questa slide, guardatevela bene. Have to e must, che sono due modi di dovere. Appunto con una leggera differenza. La verità è che sono spesso intercambiabili. La verità è che a volte potete usarne uno al posto di un altro, ma quindi cercate di usare must quando c'è qualcosa veramente della quale voi non potete fare a meno. Qualcosa di imprescindibile, qualcosa che è un obbligo assoluto. Quindi must è quello. Have to significa ugualmente dovere, ma un filino, secondo me, meno grave. D'accordo? Quindi questa è la differenza fra must e have to. Ecco, i possibili errori. Vediamo un po' cosa si può sbagliare. He have to go. He doesn't has to go. Questi sono degli errori molto tristi, possiamo dirlo. He have to go, bisognerebbe dire he has to go. Quindi ricordatevi sempre la terza persona. È lì che si va a sbagliare, non in altri contesti. E poi he doesn't have to go. Lui non deve andare. E non he doesn't has to go. Perché la terza persona la scrivete una sola volta. Se voi vedete, he doesn't has, noi abbiamo doesn't, abbiamo già inserito la terza persona, perché sennò sarebbe stato don't, no? E quindi non serve ripeterla con un'altra, con un'altra specifica. Quindi non dovete rimettere la terza persona nella has. È giusto mettere he doesn't have to go. Ecco, io direi che per questo ci sono degli esempi per must. A me piace trovare gli esempi nel vivere di tutti i giorni. Allora, i Queen, show must go on. Lo show deve andare avanti. Lo show significa lo spettacolo. I Queen hanno fatto show must go on. Una canzone anche bellissima che significa lo spettacolo deve andare avanti. Oppure must have, best product, significa il migliore prodotto, è un must have quando voi volete intendere che un prodotto dovete assolutamente averlo. E questo è un loghino che potete trovare su alcuni prodotti che secondo il mercato sono assolutamente da comprare. Piuttosto che you must wear your seatbelt, devi indossare la tua cintura di sicurezza. Non hai altra scelta. Oppure, quello invece è un cartello che, quello sulla destra, lo vedete, you must be 21 to enter, significa devi avere 21 anni per entrare. E si usa per specificare che devi avere 21 anni per entrare in un posto, magari in una rivendita d'alcoli, c'è tutto. E questi sono dei cartelli che si trovano nei paesi anglosassoni. Ecco, ringraziamo Make It e Just Write, che sono i nostri libri di testo con i quali abbiamo potuto fare questa lezione. Io cerco di chiudere un po' veloce perché il cane sta iniziando a muoversi, grattarsi e tutto, quindi voglio finire la lezione brevemente. Ringraziamo quindi Cambridge e Oxford per quanto ci hanno permesso di fare. E uno special thank you al Ministero dell'Istituzione, a Lici Busnago, prima E e seconda C, a Lici Masate, Martin Luther King, Alta mia scuola, classi prima C, seconda C e terza C. Ciao ragazzi! Lici Castelverde di Roma, classi prima D, seconda D, terza D, seconda A e terza A. Lici Spoltore di Perugia, classi prima E, seconda E, terza E, seconda D, terza D e terza G. E lici Dante Alighieri di Macerata, sezioni D e G e classe prima C. Adesso, scusate, io vi saluto, devo andare a... il cane e poi vi volevo lasciare anche un augurio di buona Pasqua perché è una specie di ringraziamento, tra poco ci sarà Pasqua e vi ho fatto un piccolo video, ho provato a fare un augurio che non è venuto proprio il massimo, vabbè, ma ovviamente io non taglio mai nulla, quindi vi ho lasciato, vi ho lasciato i miei auguri in fondo a questo video. Ciao ragazzi, a prestissimo e grazie di essere stati con noi. Continuate così, let's fight together! E poi devo mettere, devo mettere questo coso, perché ho unicopolo comprato per 30 euro o 20 su Amazon e poi c'è anche un po' di umore, la storia che sta andando, quindi forse la cucina non è proprio il posto migliore per augurarvi buona Pasqua. Quindi, boh. Volevo fare gli auguri di Pasqua ma avrò lasciato l'acqua con la ciotola del canno. Eh? Sì. Continuo a sbagliare. Ciao ragazzi, buona Pasqua, happy, welcome. We wish you a very Christmas, but oh, it's not Christmas. Hi guys, happy Easter to you all and to your families. Ciao, buona Pasqua, happy, welcome.